Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Future Camera 89 Sono le 8 e 22 di mattina e siamo qua a registrare un po' di Clash Royale Signori, subito un bel pollicino in su per il vostro Future Camera 89 Vi ricordo qui sotto in descrizione trovate tante cose belle che vi possono essere sicuramente utili Signori, vi ricordo che ancora c'è il contest della Gillette Bomber Cup Dove potete vincere una postazione da gaming da ben 8.000€ circa Basta fare un balletto di Fortnite utilizzando il gesto Cheve Like a Bomber Taggatemi su Instagram con l'hashtag Cheve Like a Bomber Trovate tutto sul mio account Instagram Fatto così, poi verso novembre ci sarà registrazione e uno di voi si becca tutto quanto Andiamoci su Clash Royale Ogni tanto è meglio ricordarlo perché sai Allora, la nuova stagione l'abbiamo vista eccetera eccetera Questo è il deck, forse un po' pesante Forse un po' difficilotto eccetera eccetera Che voglio andare a usare Una cosa che sicuramente dovrei cambiare in questo momento Perché così sto vedendo Mi serve una carta un po' più piccola Dai, proviamo così Vediamo un attimo quello che riusciamo a fare Subito un bel pollicione in su per il vostro 10-89 Vi ricordo di lasciare like Perché spesso e volentieri Non ve lo sto proprio più dicendo ultimamente 0-0-0 Carina questa arena Quindi vado a fare così Vado a prendere qualche schiaffo Vi dirò A me sostanzialmente va anche bene quello che è appena successo Ce ne vi spiego Nel brutto Comunque Ci sta Cioè è fantastico Guardate quello scheletrino Pim Una botta di alattirata Io sono contento Io gli mando un bacio Già che ci sto Dai Io già che ci sto Gli mando un bacio Bellissimo Ottimo Tanto è vero che la strega L'hanno potenziata Come avete visto Molto figo Davvero davvero Tanto tanto bello Quindi io Vado a continuare Quella che è Caro ma Quella sfera rinfocata Un po' buttata Che cosa è successo Sai che c'è Io Di là lui Ipoteticamente Mi deve difendere per forza Giusto Quindi Lui c'ha Sicuramente le carte basse Quel golem Non ci credo L'ha buttata No non l'ha buttata lui da solo Io faccio così Proprio perché Voglio andare a Vincere questa partita In maniera eclatante L'arciere mi fa a sinistra Beccate sto pesce Facciamogli grazie Dai che alla fine È stato anche carino E simpatico Deck che ha il momento Contro un livello 11 Poraccio Mi ha anche un po' dispiaciuto Mi ha anche un po' dispiaciuto Diciamo che Ha dato I suoi frutti Giusto La soglia 10 è stupenda Madonna raga Già sta arrivando Halloween Eccetera 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 Pazzesco Pazzesco raga Pazzesco Io vi dico Tante Idee sul canale Vedrete ultimamente Quanta roba Sta tornando sul canale Qualcosa di devastante Non ho acceso la luce Ragazzi Perché è mattina presto Se già comincio Che le luci così Non arrivo a fine serata Siamo contro Jacopo Hai capito no? Siamo contro loro Cucciolo di Baby Dragon Ci sta Adesso devo capire Se conviene Sminchiargli la testa Ma secondo me si Beh Sicuramente Ne è valsa la pena Sicuramente Beh sicuramente Vado a fare così Ciao bello Stamme bene Ah E secondo me Lui sta sotto Lui sta Sotto Se non Uguale a me In realtà Cioè non è che sta Proprio sotto Il tizio Però voglio Giocarmela Un po' più safe Voglio lanciare Dietro il gigante E vedere un attimo Lui come si comporta Perché secondo me Si stava un po' sotto Ma c'è da capire In realtà Quanto Faccio sicuramente Così Sicuramente Così E sicuramente Così Non sembra Ma i danni Ne ha ricevuti Un botto Il tizio Eh Peccato Perché Non è male Dai Vieni Che ti porto A fare una passeggiata Questo è bravo Ma oltre che è di livello 13 Per farvi capire Questo qua è bravo Questo è bravo Regà Mo me lo sto a portare Presso D'accordo su tutto Quarto col gigante Dietro Allora Questa Questa ci può stare Assolutamente Ci può stare Però Ora vorrei capire Lui Ok Quindi mi continua Ad andare di là Fortunato Ragazzo Eh Sicuramente Fortunato Sicuramente Quindi Tanti Danni Di là Ok Vediamo Perché Quello Può essere Un problema Per me Sicuramente Questo Mi può Aiutare Nel mio Cammino Ok Adesso Tutto Sta A difenderci Vabbè Questi Non sono Un problema Questi Non sono Un problema Gli ha detto Male perché Aveva un deck Veramente strano Regà Cioè Che se non Ti funziona La furia Te li tiri Qua Te li tiri Tutto quello Che hai tirato Vabbè Tranquilli Ce la siamo Gestita bene Ho visto Un attimo Alcuni momenti Di Preoccupazione In me Ce li ho vissuti Perché comunque Non era male Anzi Mi sembrava anche bravo Però a un certo punto Si vede che ha scapocciato Magari ho un deck Un pochino più composto Io Che a lui L'ha un attimo Lasciato così Parto col boia Volevo partire con La strega Però Lui ha perso Due delisir Tre delisir Quattro delisir Senza senso Vi giro Regà Senza senso Vabbè Regà Senza senso Ok Qualcosa Sono abbastanza sicuro Che sia andato storto In tutto questo Ma È stato simpatico Cioè nel senso che Qualcosa è andato storto Sperando che non abbia Sfera infuocata Tronco Ecco Allora Praticamente ha tirato tutto Quello che io speravo Che lui non tirasse Cioè ha tirato tronco Ha tirato lo stregone Bene 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 Che poi per realtà Non è che è andata così male Cioè Poteva andare decisamente Peggio Ok Quindi siamo nel Girone boia Mi state dicendo Probabilmente Sì Siamo nel girone boia Bel girone Il mio attacco È buono Nel senso che Ci sta Immaginavo mi potesse Direi bello Il boia che se ne infischia Della vita Fa A me non mi interessa Ha detto a me Non interessa I vostri giochetti Del cavolo Bello così Bello 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 Così Stupendo Come il sole Bellissimo Bellissimo Qui la tronco Ci sta tutta Caro amico mio Una bella Troncuccia Ok Sicuramente Mi potrebbe Arrivare Il domatore Presto Sulle scatole Ok Si Ci può stare Sono d'accordo Sul fatto Che non Mi arriva In hit Faccio così Sono Molto D'accordo Però Sinceramente Ok Questo è stato fondamentale Devo fare molta attenzione Qua Perché lui Il domatore Adesso Non lo può utilizzare Cioè In questo preciso istante Il domatore Non lo può utilizzare In questo Precisissimo Istante Vado sicuramente A tirare una scarica E butto il golem Di ghiaccio Là davanti Per creare Gli più problemi Possibile Regà Ma che vi devo dire Cioè GG per noi Cioè GG per noi GG per noi Mamma mia Che deck Che deck Assurdo Pazzesco Deck Assurdo Signori Io Che vi devo dire Copiatevi sto deck Perché Boh Mi è uscito così Fantastico Che vedo di Perfetto Almeno per il momento Poi cominceremo a perderci Come non mai Io spero che l'appuntamento Di oggi vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento Il vostro 189 Ciao ciao